Bella a tutti ragazzi bentornati sul canale del Signor Shetty ed oggi siamo qui con un titolo ancora mai visto sul mio canale te credo perché è uscito ieri che è Project Cards che ho avuto diciamo modo di provare ieri sera appena scaricato dal Playstation Store solo una gara e ho fatto i peggio danni perché questo è un gioco che bisogna è un titolo che bisogna ancora spolparlo per capirlo bene per entrare nelle meccaniche di gioco quindi impareremo insieme probabilmente perché ancora sto molto indietro naturalmente le carriere possiamo decidere quale partire se da un campione in carica o dalle stelle alle stalle cioè per farvi capire dai kart noi naturalmente partiamo dalle stelle alle stalle con i nostri kart e ci creiamo questo pilota allora il nome un nome un po' ridicolo ci serve Giacomo Lumagina soprannome Fast Lumaga vai col nostro Fast Lumaga nazionalità italiana numerato 0 perché noi partiamo con niente e andiamo subito vabbè naturalmente partiamo da questi kart o dai super kart no dai kart dai dai kart normali dobbiamo scegliere il contratto o con la Torque Riders o con la Dark Nitro che dite facciamo quella Dark Nitro grazie a tutti per la Torque Riders Allora qui ci stanno le email che ci arrivano per offerte di contratto e consigli vari dal nostro box, qua i risultati, ma noi dobbiamo andare al calendario per trovare una gara. La prossima gara, eccoci qui, la prima gara del campionato, UK Kart Nationals, andiamo subito. Sono due giri, gara 1 e gara 2, gara sprint, dai, andiamo così. Ok, la messa a punto del kart, ancora non la possiamo fare, o meglio, la possiamo fare, questa no, la strategia è sbagliata, però per ora lascerei un po' così perché devo ancora vedere come reagisce la macchina. Se io lascerei così. Ok, guidiamo, andiamo subito alla gara. Ragazzi, ricordo che ho messo... ho disabilitato qualche aiuto e ho messo una difficoltà intermedia, giusto per... Dai, cazzo, vai Giacomo Lumachina. Vai Lumachina, è passato Lumachina. Dai, una sbordata, vai. Mamma mia, subito davanti. No. No. Grande, Giacomino. Vai Giacomino. Ragazzi, in questo gioco bisogna concentrarsi perché sennò si vanno ste cazzate. Riparti già. Vai Giacomino. Subito. Mamma mia. No, stai fuori? Stai andando dritto. Vado primo, è arrivato primo Giacomino. Buono così. Ok, siamo primi a round 1. Giacomino, cagina. Ok. Andiamo avanti con... La seconda gara. Andiamo, andiamo subito. Vai Giacomino. Sei pronto Giacomino? Vai Giacomino. Frena. Sennò vai dritto. Vai già. Sennò Giacomino. Gira. Vai dritto. Mamma mia. Giacomino. Allora, io non so se devo abbassare un po' il volume di gioco perché ho paura che il mio microfono si senta pochissimo. Vai Giacomino. Poi scusate se queste prime gare parlo un po' di meno. Ma... Cioè, veramente, su questo gioco bisogna essere parecchio concentrati perché basta fare... Basta essere un attimo non concentrati e si fa qualche cavolata. Nooo... Visto? È da questo che intendevo. Vai Giacomino. Vai Giacomino, che è l'ultimo giro. Dai. No. Attento. Dov'hai? Vai Giacomino. Vai Giacomino. Andiamo a vincere. Eccoci. Grande Giacomino. Che abbiamo vinto anche questa gara. Quindi... Siamo... Siamo primi. Abbiamo preso altri 15 punti. Dov'è la classifica? Ecco la classifica. 30 punti. Il secondo sta a 22. Ma dov'ha? 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 Ok, ora ci facciamo le... Le prossime due gare. Che sono sempre del... Del nostro campionato. Sono sempre gare sprint. Quindi gara 1, gara 2. Andiamo subito con Lumachina. Siamo pronti. Andiamo. Vai Giacomo Lumachina. Dai che oggi è nuvoloso, ma per te è soleggiato. No. Che fai? Le monti dietro. Sozzone. Gira. Vai Giacomino. Siamo partiti male, ma ci riprenderemo. Dunque ragazzi... Non so se definirlo più un arcade o un simulatore. Cioè io vedo un misto di tutte e due. Cazzo fai Giacomo. Veramente ben fatto. Ben fatto questo gioco. Che fai? Che fai? Vedate... Oddio, te l'ho mandato. No. Corri. Ehi. Gira. No, 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 no. Dove va? Oddio, come siamo arrivati? Abbiamo fatto una cazzatina all'ultimo. Siamo arrivati secondi, incredibile. E non ce lo meritavamo, non ce lo meritavamo. Dai siamo arrivati secondi. 12 punti. Va bene così dai, 42 punti. Stiamo... Quello là ci ha quasi recuperato. Andiamo avanti. Gara 2. Ecco, è uscito il sole oggi su Giacomo Lumachina. Ecco, vorrei... Magari mettiamole queste... Mettiamo questo Udi. Oh, cazzo. E, e, eeeh... Sverniciato. Ma no. Eeeh. Che fai? Non si può tagliare così, Giacomi. Concentriamoci un attimo. Se no qua facciamo i danni. Dobbiamo fare un po'... Gli spiaggiati. Dobbiamo essere calmi e spiaggiati. No. Irena. Fare il coglione. Gira. Dove vai? Ma che fuori pista! Quello me lo chiami fuori pista. Io non lo so. Povero Giacomino. Mamma mia. Grande Giacomo. Dai. Frena. Gira. Oh. Fai saltini. Vai a cellare a Giacomini. Vai Giacomino. Siamo arrivati. Vai Giacomini. L'ultimo. Grandissimo. Giacomino. Siamo arrivati prima. Un'altra volta. Molto così per la nostra classifica. Ci allontaniamo da Piotr Marca. Sempre dall'Atac Nitro. Quindi va bene lo stesso. Andiamo così. Eccoci i primi. A 57 punti. Mamma mia. Non ci riprende più nessuno. Vabbè ragazzi. Per oggi basta così. Il prossimo video probabilmente uscirà. O stasera o domani. Questa diciamo era una intro. Per farvi capire un po' le meccaniche di gioco. E' come era formata la carriera. Quindi che dire. Iscrivetevi. Lasciate un bel like. Perché voi dovete sempre essere aggiornati. Su quello che succederà. Al nostro Giacomino Lumachina. E fate quello che vi pare. Bella. Per la carriera.